E' solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Buona giornata, buona domenica, siamo nel cuore della novena in onore di San Pio che ci sta portando anche quest'anno alla festa liturgica del nostro carissimo confratello e santo confratello. Ci ritroviamo questa mattina qui nello studio di Padre Pio TV assieme a due frati, frati Informazione, fra Giuseppe Perrone, fra Claudio Ricci. La loro presenza giustifica anche un avvenimento, un evento anzi, che loro hanno appena vissuto qualche settimana fa nel cuore dell'estate e che in qualche modo ci dice la bellezza, non solo della vocazione francescana che è raccolta dalle nuove generazioni, che è vissuta e in qualche modo si proietta anche verso il futuro. E allora, pace e bene, buongiorno. Buongiorno a tutti. Pace a voi. Ecco. Allora, fra qualche istante noi vedremo le immagini di quello che avete vissuto a Roma, al Collegio San Lorenzo, che è un po' il cuore del mondo culturale, dove tutti i frati che studiano presso le università pontifici a Roma si preparano, quindi danno i loro esami, per poi dopo ritornare nelle rispettive province con questa ricchezza ulteriore che darà loro la possibilità di animare le loro fraternità provinciali. E quindi, proprio lì, in questo luogo, vi siete incontrati. Era precisamente... Dal 24 al 28 luglio. Al 28 luglio. E si sono incontrati chi, praticamente, chi eravate? Frati, in formazione, quindi giovani frati. Post novizi e studenti europei. Poi, lo diciamo bene, anche queste espressioni che per noi sono molto semplici, per coloro che sono a casa forse non sono espressioni così già chiare. E vi siete incontrati, prima di tutto, diciamo, eravate frati di tantissime nazioni. Sì. Esattamente quali, Giuseppe? Se ti ricordi così a volo di uccire perché eravate tantissimi. Sì, 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 eravamo... Ecco, già ci sono alcune immagini alle nostre spalle. C'erano provenienti da Malta, dalla Francia, dall'Irlanda, Inghilterra, dal Belgio, dalla Polonia, ci sono due case formative, Varsavia, Cracovia, poi dalla Spagna, dalla Catalogna. Sì, 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 un po' dappertutto. Ovviamente anche l'Italia, perché è il numero più... Sì, un po' dappertutto. Non tutta l'Europa, per quale motivo? Magari Claudio ce lo puoi dire, perché in realtà l'ordine francescano-cappuccino purtroppo non vanta più, da alcuni anni, da alcuni decenni anche, in alcuni luoghi, non può più vantare la sua presenza in tanti territori. E quindi si percepisce questa... ecco, ci sono dei territori di cui già si sa i frati cappuccini stentano a garantire la loro presenza. Quali sono questi modi un po' di moda? Oggi è anche un po' di moda, è quello della Russia soprattutto, dove purtroppo frati non ce ne sono, tant'è che il generale invita molto, soprattutto i frati che sono della Polonia, della Custodia, della Bielorussia, ad andare proprio in Russia per dare una mano e ravvivare quello che è il carisma nostro cappuccino. Ma pensiamo anche alla Lituania, all'Estonia, all'Est europeo. Esatto, esatto. E l'Occidente, l'Europa occidentale invece, quali sono le nazioni che hanno maggiore difficoltà, quindi nel mondo, nel contesto vocazionale, è questo che stiamo dicendo? Sì, adesso diciamo la nostra difficoltà, soprattutto quest'anno, è che sono venuti a mancare proprio i fratelli del Portogallo, che di solito erano anche un numero che, bene o male, in otto, nove venivano. Invece quest'anno zero, non c'era neanche un giovane frate, e quindi ecco, questo ci fa comunque mettere il pensiero, la preoccupazione. Beh, il Portogallo ha una tradizione cristiana, francescana, antichissima, insomma, effettivamente è qualcosa che fa pensare. Però c'è anche una gioia, perché proprio ieri ho vissuto a Morano le vestizioni, e comunque ci sono stati due ragazzi del Portogallo, quindi questo ci dice che ci sta una piccola speranza, cioè che si può ancora credere, che questi incontri comunque portano un qualcosa. Molto bello. Allora, proprio, ecco, avremo la possibilità poi di sviluppare tutti questi pensieri. Ora vediamo un servizio che è stato curato dalla Curia Generale, se ho ben capito, dall'Ufficio delle Comunicazioni Sociali. Lo vediamo che riassume un po' tutto quello che è stato vissuto, poi avremo modo un po' di commentarlo insieme. Grazie a tutti. Pace e bene a tutti. Si è aperta la seconda convocazione europea dei giovani in frati Cappuccini in formazione iniziale. Possono vizi e studenti di teologia. Sono giunti circa 167 frati, provenienti appunto da tutta Europa, da Sisi, Bari, Belgio, Campobasso, Catalonia, Cracovia, Croazia, Romania, Libano, Francia, Germania, Inghilterra, Malta, Milano, Repubblica Czeca, Scandiano, Slovakia, Slovenia, Spagna, Warsavia, Venezia e Viterbo. Pocój, dobro. Nazywam się Kamil Pasierbski, pochodzę z Polski, z prowincji krakowskiej. Jestem tutaj razem z braćmi w Rzymie, braćmi poznowicjuszami oraz studentami z formacji, którzy się jeszcze formują. Aby dzielić ten czas wspólnie i dzielić się również refleksjami na temat naszego życia kapucyńskiego. Dzisiaj razem z ministrem generalnym zastanawialiśmy się nad przyszłością naszego zakonu. Zobaczmy, co się dzieje, jak będzie to, co się dzieje. Będziemy, co się dzieje. Zobaczmy, co się dzieje z Polski. Zobaczmy, co się dzieje, jak to jest znowu, co się dzieje. Ze to jest znowu, co się dzieje, że zbocznę niepokoją się z tym, co się dzieje, w jaki to się dzieje, w którym dzielić się w różnych rodzajach. Jestem bardzo szczęścia z tym, co się dzieje, z tym, co się dzieje. perché mi permette di trovare i miei che hanno fatto il noviciato e il postulato con me, con cui ho fatto, in Italia. Poi perché mi permette di scoprire le altre realtà europee, che non sono molto lezioni da mia propria provincia. L'obiettivo di questa convocazione è quello di stare insieme. Infatti non si chiama convegno, non si chiama congresso. Si tratta di una convocazione, perché ci sono dei contenuti, ma il vero obiettivo è quello che i giovani frati dell'Europa si incontrino, si conoscano sempre di più e creino dei legami di fraternità. Non ha pretese enormi, se non quello di ritrovarsi, ascoltarsi, confrontarsi. di ciò che scegliere le nostre relazioni, la scoperta di riconoscere, l'ambientistica, le nostre culturità, le nostre culture, anche le scoperta di riconoscere, le scoperta di riconoscere, la scoperta di charyzmatura capucciana. Questo incontro servirà a creare dei legami che porranno le basi della presenza dell'ordine in Europa. La generazione di cui io faccio parte tra qualche anno non avrà più incisività, invece i giovani che sono riuniti qui in collegio, proprio perché si conosceranno sempre di più, potranno poi al momento giusto progettare il futuro dell'ordine dei cappuccini in Europa. Eccoci qua, padre Francesco Neri, fra Francesco Neri che è uno dei consiglieri generali, fra l'altro accompagna anche come suo ministero anche quello di accompagnare la fraternità di San Giovanni Rotondo, speriamo di averlo in questi giorni anche qui a San Giovanni per la festa di San Pio. Bene, abbiamo avuto la possibilità di capirci qualcosa, chiaramente un servizio molto breve e quindi per certi versi hanno dovuto sintetizzare un po' i temi più importanti. La prima domanda che vorrei fare a Claudio, già il fatto di potervi incontrare con giovani di tutta l'Europa, della tua età, più o meno eravate tutti coetanei, già questa percezione, che cosa ti ha fatto vivere, che cosa hai provato anche in questi incontri? A parte la difficoltà delle lingue, credo un po' immediata, tu hai fatto un'esperienza dove? In Francia, per cui già... Bene o male, diciamo, sappiamo un po' rapportarci con diverse lingue anche, per fortuna. Però ecco, io credo che la cosa importante di questi incontri è proprio quello che si diceva anche in questo video, è quello di creare dei legami. Veniamo da diverse parti dell'Europa, addirittura Giuseppe ha dimenticato anche dal Libano, quindi dalla zona del Medio Oriente, quindi questo ci fa ancora di più ravvicinare. Perché nei percorsi formativi la provincia libanese si associa un po' alla... Esatto, sì, esatto. E quindi è questo proprio di creare legami, perché, come si dice, se si vuole costruire un futuro diverso, oggi le vocazioni vengono meno, bisogna partire proprio dal basso. E dal basso significa partire da noi giovani e permettere a questi giovani di conoscersi, perché non è facile dire direttamente andate lì, andate lì, senza magari una conoscenza. Invece questi incontri ci permettono proprio di conoscerci, di capire come si vive in Polonia, come si vive in Spagna, come si vive in Francia. E questa è stata la cosa, secondo me, molto interessante. Se abbiamo ancora del tempo, forse qualche un minuto, molto velocemente, poi avremo la possibilità, subito dopo lo stacco pubblicitario, non so se la regia mi conferma, se abbiamo la possibilità ancora di... Sì, abbiamo due minuti. Ecco, due minuti. Allora, Giuseppe, quali sono, secondo te, gli elementi comuni, quelli che vi hanno dato la possibilità di sentirvi, per certi versi, proprio fratelli, no? Ma, certamente, partendo dal fatto della nostra stessa vocazione, l'essere Cappuccini e Cristo, penso siano, prima di tutto, i due elementi più importanti, principali. E, certamente, anche il desiderio di camminare insieme e di conoscersi, c'era la difficoltà delle lingue, ma spesso poi con l'aiuto dei traduttori, ma semplicemente rompendo quelli che sono i nostri pregiudizi, sovrastrutture, poi ci si ritrova insieme. Voglio sottolineare una dimensione bellissima che è stata vissuta, che è quella dello sport, che ti aiuta tantissimo a rompere queste barriere. E poi, certamente, tutto il resto, il pellegrinaggio ad Assisi che abbiamo vissuto... Aspetta, quello dello sport, cioè, che cosa significa? Cosa avete fatto? Avete proprio giocato... Abbiamo giocato, certamente, a calcio, pallavolo, ping pong... Ma vi siete divisi per province? No, no, assolutamente. Per chi sapeva giocare a calcio, per chi sapeva giocare a pallavolo, senza star lì a vedere... Quindi non c'è la domanda chi ha vinto, questa cosa non... No, era semplicemente lo stare insieme, è veramente la gioia dello stare insieme. Paradossalmente si sono vissuti tanti momenti, di più rispetto a quelli del 2018, ma ci sono stati più momenti per stare insieme e anche per riposarsi nello stare insieme. Questo chiaramente ha agevolato il conoscersi, il confrontarsi anche su quelle che possono essere le difficoltà e le potenzialità delle nostre fraternità dove viviamo. Bene, benissimo. Avremo la possibilità di continuare questo racconto, tornare a questo evento che avete preparato, proprio voi siete protagonisti anche della regia, anche un po' di tutto quanto. Non l'avete semplicemente vissuto così, non avete solo fruito di quei momenti, ma lo avete preparato, lo avete anche un po' studiato nei suoi differenti ambiti, quelli della preghiera, della fraternità, come dicevi. Bene, ci vediamo fra qualche istante. Eccoci qui, siamo qui nello studio di Padre Pio TV, stiamo raccontando un'esperienza molto bella che i giovani frati Cappuccini di tutta Europa hanno vissuto a Roma nel Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi, quindi quest'estate, nel cuore di quest'estate, questo incontro, esattamente qual è proprio l'espressione convocazione, perché anche questo è stato detto anche nel servizio, non è un convegno, non è stato, ma proprio qual è l'espressione giusta? Convocazione fraterna europea dal tema quest'anno in spirito renascemur, appunto nello spirito santo e nello spirito cappuccino, nel nostro carisma cappuccino. Quindi su questo, chiaramente con una peculiarità, considerando il territorio europeo, nella dimensione missionaria. E quindi per questo motivo si è concentrato, diciamo, la nostra riflessione, facendo riferimento, in questo momento ricordo, alla testimonianza di Fra Paolo Pugliese, dove appunto lui ci ha condiviso la sua esperienza in Turchia. Beh, questo Fra Paolo. Della provincia dell'Emilia Romagna, e lui ha vissuto per un periodo di tempo in Turchia, e quindi ci ha raccontato delle cose belle, insomma, che ha vissuto, ma anche delle difficoltà, con molta semplicità e concretezza. E questo, insomma, ci ha colpito molto, perché non è poi tanto distante dal nostro quotidiano ciò che a due passi dalla nostra Italia si vive lì. Certamente con le difficoltà di non portare l'abito o in un territorio che nella maggioranza è musulmano, ma anche lì si riesce, si può vivere la nostra, insomma, fede cristiana ed evangelizzare, secondo, insomma, il volere di Dio questo. E poi il suo ritorno in Italia, insomma, ecco tutto quello che ci ha raccontato è stato veramente di grande aiuto. E poi, ovviamente, partendo prima dalla condivisione del Ministro Generale, che ci ha presentato soprattutto tre punti fondamentali, che sono il rapporto con Dio, il nostro vivere fraterno, che è punto nodale del nostro carisma cappuccino, e poi, diciamo, le varie dimensioni che riguardano la formazione. E qui si è presentato soprattutto la difficoltà delle lingue, o meglio, la necessità di conoscere le lingue, proprio per permettere una maggiore possibilità di poter vivere il nostro carisma anche nel territorio europeo, e con la facilità di interagire anche con gli altri fratelli di altre lingue. E poi anche la testimonianza, la condivisione sulla Ratio Formazionis di Gianfranco Tinello, guardiano di Venezia, nella dimensione della paternità. E anche la testimonianza di due studenti di Cracovia e Varsavia nel periodo della pandemia. Una piccola testimonianza che anche lì è molto interessante, bella. La dimensione missionaria. Viene in mente, prima di tutto, ecco, in questi giorni Padre Pio torna come un modello per tutti noi, per tutti i cristiani, ma in modo particolare per i frati, i frati Cappuccini. Tutti noi sappiamo che la prima volta che Padre Pio, giovanissimo, era a Sant'Elia Pianisi, e quindi aveva poco più di 18 anni, ha avuto la possibilità di incontrarsi con il suo ministro generale, un evento storico che lui ha vissuto, la prima volta che si è ritrovato dinanzi al successore un po' di San Francesco, per quei tempi, lui ha espresso il desiderio di partire missionario. Il ministro generale, si racconta, un po' forse gli ha sorriso, non aveva la salute per affrontare questo tipo di esperienza. A quel tempo la missione probabilmente sarebbe stata quella dell'India, ma quindi Padre Pio, nonostante abbia custodito nel suo cuore questo desiderio, ma non si è mai realizzato. Il Signore in modi diversi ha realizzato in pienezza anche questo desiderio che appartiene proprio del DNA di ogni cristiano. Ma una volta, quando si diceva partire per le missioni, soprattutto dall'Europa, era chiaro il tipo di movimento. Quindi dall'Europa si partiva dall'Italia, naturalmente, si partiva per l'Africa, per le Americhe, per il Brasile, nei luoghi più lontani. Oggi, quando si dice missione, probabilmente non suona nello stesso motivo, quindi le traiettorie sono un po' diverse. L'Europa può permettersi ancora di parlare di spirito missionario? Può permettersi, ma secondo me, nel guardare innanzitutto dentro casa sua, una missione ad intra. Io immagino le varie nazioni, ma anche l'Italia stessa, oggi la vera missione è proprio viverla all'interno dei nostri conventi, delle nostre realtà parrocchiali, prima di partire per l'Africa o per l'India. Anzi, oserei dire questo, ma forse mi sbaglio, oggi l'Africa e l'India forse sono ben costituite già, quindi magari hanno già un passo più accelerato rispetto al nostro, perché comunque i frati precedenti a noi o anche gli altri missionari hanno dato, hanno speso la vita e quindi si è costituito un bel fiore. Oggi questo fiore deve davvero fiorire nelle nostre realtà. E l'Europa, con il secolarismo che vive, deve incominciare davvero a far fiorire, a annaffiare questo fiore e lo deve fare all'interno. Ecco perché parlare ad extra diventa difficile, bisogna davvero pensare... Forse per tanto tempo c'è stato uno spirito un po' paternalistico, quando si parlava o quando si incontravano frati, anche africani, frati americani, la provincia madre, in qualche modo erano i frati partiti che portavano anche un certo benessere, i primi anche tuttora in tanti posti, anche la nostra provincia religiosa è impegnata con alcuni frati, i nostri telespettatori lo sanno, c'è Frantonio Di Mauro che è un nostro corrispondente nella finestra missionaria lì in Chad, in Centrafrica. E quindi dove anche ancora persiste questo sforzo dei missionari di raccogliere anche la generosità di tanti perché possano realizzarsi opere ambulatori, scuole, questa è una cosa che ancora viviamo. Però è anche vero che anche a San Giovanni Rotondo vengono ad aiutarci anche nel servizio delle confessioni, molti frati che vengono da quelle chiese, come anche nel resto d'Italia, anche in Europa. Quindi tipo il rapporto che si stabilisce non è più quello, un po' dicevo prima paternalistico, come se fossero delle chiese più piccole ancora. In realtà ci sono delle esperienze anche mature, dei frati, anche loro animati da uno spirito missionario, che a loro volta vengono qui anche ad annunciare il Vangelo, in qualche modo ad animare le nostre comunità religiose. Quindi già questo dice che tante cose sono cambiate. Ma ecco, dico questa cosa Claudio. Qualche giorno fa, mentre eravamo a mensa a pranzo, con un frate anche un po' più grande di età, padre Salvatore Scopece, Fra Giuseppe ha detto un'espressione molto forte, noi siamo il futuro dell'ordine. Noi che eravamo vicini siamo rimasti, ci è sembrata quasi una provocazione. Allora poi dopo abbiamo sviluppato anche questa cosa e ci siamo detti, ma basta avere vent'anni per dirsi il futuro dell'ordine, vent'anni o più o meno, non è che avete vent'anni, qualche anno in più, ma basta essere così giovani per dichiararsi il futuro dell'ordine. Ecco, quali sono le cose che veramente rappresentano il futuro, la profezia e che fa forse anche, perdonatevi, insomma anche al di là dell'età di una generazione, no? Quali sono? Ecco Giuseppe, proprio perché questo ragionamento l'abbiamo cominciato con te. Qualche giorno fa con Fra Pasquale parlavamo, guardando un video del Papa, sulla creatività. Penso che sia un elemento importante perché ci sia questa profezia. Partendo da quelli che sono i pilastri, chiaramente, della nostra vita religiosa, provare a parlare oggi, ad essere incisivi oggi, nell'essere creativi, ma partendo sempre dal nostro pilastro che è il Vangelo. Partendo da lì. E non abituarsi, non accettare quella famosa frase che sentiamo sempre, si è sempre fatto così. Partendo da destrutturare quella frase lì, provare a dare qualcosa, non di nuovo perché la novità possa stravolgere i piani e quindi attirare chissà chi o che cosa, ma con il nostro vivere veramente autentico, cristiano e cappuccino, possiamo dire qualcosa ancora oggi, non allontanandoci, ripeto, da quelli che sono i pilastri della nostra vita. Oltre due domande molto velocemente, visto che il tempo sta proprio volando via e questa opportunità anche di parlare, in qualche modo sentire vicini anche i nostri ascoltatori, perché sono sempre curiosi di capire ma chi sono i frati di oggi, un po' noi siamo anche per così dire la presenza storica anche di Padre Pio, dello spirito cappuccino dove si manifesta. Abbiamo un Papa che è ultra ottantenne e certamente al di là di questo capita Claudio di stare accanto a tanti frati che sono anziani, che hanno vissuto la loro esperienza. Percepisci la bellezza della loro giovinezza nelle cose che propongono, nelle cose che dicono, nelle avventure che vorrebbero ancora vivere anche con questo desiderio di ancora di stare sul campo, di leggere la storia da frati cappuccini, da frati minori cappuccini. Sì, certo che si percepisce. Guarda, aggiungo, secondo me è un altro pilastro, perché a quella domanda che facevi precedente che secondo me si collega benissimo ed è proprio l'ascolto di queste generazioni passate, perché se noi possiamo essere un futuro dell'ordine, perché dietro abbiamo persone che ci hanno creduto e che ci credono, che ci credono soprattutto oggi. L'esempio per me è stato padre Rosario Borraccino, io l'ho avuto nella casa di formazione a Campobasso, e lui con la sua vita, con davvero il suo essere frate cappuccino, semplice, dava una gioia enorme e ci richiamava quando a volte parlavamo durante la preghiera, ma erano stimoli per noi, per dire c'è un padre e un fratello che dice guardate, se vogliamo costituire un ordine bisogna essere ascoltatori e poi bisogna agire. in mente l'immagine dei maratoneti, di coloro che ricevono una fiamma che è già accesa, l'illusione talvolta quasi di rifondare il mondo, talvolta si può rischiare di portare una fiaccola spenta che nessuno ha acceso, che magari semplicemente rappresenta il nostro orgoglio, la nostra, invece ecco, essere depositari di un'eredità preziosa, bellissima, che deve continuare a vivere, che vive grazie anche al nostro cuore, alle nostre energie, questo penso che sia veramente una bella immagine. Aggiungo un'altra cosa, cioè, per noi giovani oggi il fatto che sentiamo Padre Pio vicino è proprio perché frati ci hanno reso Padre Pio vicino, ce l'hanno i frati passati. Conoscevano Padre Pio i frati a Roma, i frati d'Europa? Certo, sì. Lo amano, è un modello per i frati europei. Io penso che, ah, molti ci hanno chiesto, insomma, poi un giorno di voler venire a San Giovanni, perché molti non sono ancora venuti qui a San Giovanni Rotondo, penso proprio di sì. Abbiamo un minuto, oggi è San Giuseppe da copertino, patrono degli studenti, degli esaminanti, appena cominciata la scuola, Claudio, un messaggio agli studenti che si godono questa prima domenica di un nuovo inizio scolastico. Datevi completamente allo studio, perché fa felici tutti. È San Giuseppe ed è l'esempio completo. E anche i frati studiano. È vero, soprattutto. Grazie di cuore, grazie a voi, grazie Claudio, grazie Giuseppe, grazie a coloro che hanno vissuto con voi e vi hanno aiutato a preparare questo grande evento. Il tempo è veramente volato via, auguro ancora buona domenica. Ci sono tante cose anche che la TV propone subito dopo questo momento, fra l'altro la celebrazione della Santa Messa poi dopo alle undici e mezza. Grazie di cuore della vostra compagnia. Buona domenica ancora, buona giornata. E solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. grazie a tutti.